Ciao a tutti, allora io spero che mi vediate e mi vediate bene sono in una location leggermente diversa perché sono a casa di mia suocera faccio questo video velocissimo, sono le 9 di sera fondamentalmente io durante il giorno ho poco tempo veramente per fare video quindi mi ritaglio un piccolo spazio quando posso scusate ho sentito un rumore e volevo capire che cosa stava succedendo dicevo mi ritaglio un piccolo momento quando posso questo video è un video risposta fondamentalmente perché come vi ho detto io ho poco tempo per per interagire fare video in questo periodo sapete bene se avete seguito i miei video precedenti quello che mi è successo quindi in questo momento ho poco tempo però questo video risposta ci tenevo a farlo perché la persona che a cui era dedicato tra virgolette il mio video ma il video io voglio precisare non era dedicato a lei parlavo di lei come esempio di esempio scusate il gioco di parole da non seguire cioè come con il fai da te rovinarsi i capelli lo scopo del mio video era quello lì non era un attacco verso di lei come persona visto che non la conosco come ho detto più volte però evidentemente la maturità non è da tutti perché lei non si è limitata a prendere atto di un mio parere oggettivo perché di fatto i suoi capelli sono rovinati e lo vedono tutti cioè fa video su youtube quindi è sotto gli occhi di tutti la condizione dei suoi capelli lei mi ha mandato ieri una serie di ha risposto sotto il mio video adesso io leggo i commenti e le rispondo voglio rassicurare la signorina che anche se cancella i commenti i commenti io ho fatto fatto gli stamp quindi allora ho qui l'iphone da cui posso prendere i commenti perché lei ha fatto dei papiri inimmaginabili ieri e questo tutto alle due di notte più o meno cioè io ero cotta cotta anche perché con la situazione che ho al momento con caramella io dormo veramente pochissimo quindi ero cotta ieri ciao alice mi chiamo alessandra ma non è importanza non poi non lo puoi sapere perché mia mi è stato segnalato questo video da una ragazza vi metto poi gli stamp qui perché ce li ho mi è stato segnalato questo video alla ragazza che mi segue vorrei dirti un paio di cose vabbè ti sono segnalato da una ragazza che ti segue cavolate perché è improbabile che una ragazza che ti segue ha guardato il mio video probabilmente tu ti è rimasta in carogna quello che io ti avevo detto l'altra volta hai guardato il mio canale hai visto che ho fatto un video hai visto il titolo del video la vitamina c quando mai ho detto che la faccio sempre tu lo hai detto in un tuo video hai detto che la compri in farmacia chili quindi se non la se la non la fai sempre per quale motivo alla compri a chili no spiegami perché questo mi manca t'ho spiegato questo metodo lo ripeto una serie di numeri volte che lo faccio solo quando il colore rilascia un residuo troppo forte aspettare che scarica no troppo aspettare che scarica come tutti i cristiani normali no vabbè l'avrò fatto sia se no sei volte al massimo sei volte di troppo ha 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 che te ridi vabbè ma hai detto che la parrucchiera mi ha bruciato il capello lo hai detto tu in un tuo video e nelle risposte della gente che ti dice perché non vai dal parrucchiere a fare sti lavori visto che ti stai rovinando i capelli ma la tinta ossigeno di quelle professioni da studio la tinta ossigeno a meno che non viene sbagliata in modo grossolano non brucia i capelli però quindi perché dire cazzate per fare due view io non non dico cazzate per fare due view visto che se avessi voluto fare due view avrei fatto il tuo nome ma io non t'ho cagata di striscio ho approfittato di una risposta che hai dato a un tuo video e ai tuoi video per dare un messaggio che il fai da te rovina i capelli il fai da te fatto come lo fai tu attenzione 3 ti ringrazio per avermi abbassato l'età di qualche anno ti ho dato una ventina d'anni non ti ho detto stronza ma ti ripeto a maggior ragione che non mi segui te lo ripeto io io ho visto i tuoi video non mi frega niente di seguirti quando fai video cretini scusami se te lo dico io ho guardato i video inerenti ai capelli non mi non mi interessa seguire gli altri tuoi video il non mi interessa io ho guardato i tuoi video inerenti ai capelli quindi i tuoi video io li ho guardati tutto questa cosa ti è servito che avrai almeno una quarantina d'anni ne ho 41 l'ho detto più di una volta a cosa mi è servito perché c'è uno scopo per fare video su youtube non mi sembra a cosa servono i tuoi video uso maschere continuamente non si vede studio ciò che faccio perché lavoro in questo campo allora ragazza mia io spero che tu stia scherzando perché se tu lavori in questo campo lo fa in modo veramente veramente sbagliato perché ti stai rovinando i capelli in un modo vergognoso e chi lavora in questo campo sa come non si fanno determinate cose non si fanno come le fai tu il tuo commento non era sensato quindi dirti che dovresti prenderti una pausa cercare di curarteli evitare di distruggerli non era sensato vabbè cazzi tuoi era un mero commento di una che vuole fare la fenomena senza sapere di cosa parla eh io voglio fare la fenomena senza sapere di cosa parlo è evidente è lì sui tuoi video che i tuoi capelli sono distrutti non l'ho detto soltanto io lo dicono una serie di persone attua questa serie di persone rispondi sempre nello stesso modo con commenti che non c'entrano nulla della serie io uso tinte vegan cruelty free e che vuol dire ma la decolorazione la vitamina c a chili che usi sui capelli sei tu che fai commenti senza senso perché la gente ti oppone una cosa sensata sei tu che fai commenti non sensati detto ciò menziona chi fai video vabbè questo non è scritto molto in italiano ma contro che questo ti rende matura eh impara a scrivere in italiano perché non si capisce nulla di quello che è scritto comunque è interpreto evidentemente volevi dire avrei dovuta menzionare no perché se avessi fatto il tuo nome avrei dovuto menzionati ma siccome io non ho fatto il tuo nome non mi cioè non è che io segnalo ogni persona a ogni persona quando nomino nei miei video perché non ha senso cioè allora io ogni volta che nomino basic gaia perché la nomino 27 mila volte o liquors beauty io non sto lì a segnalati ogni volta che li nomino non ti ho nemmeno nominata non ti ho menzionata nel titolo quindi sei un'anonima su youtube per me e per tutti gli altri e io le rispondo i commenti sono tutti sotto il mio video è sotto il mio l'ultimo video che ho fatto potete tranquillamente andarlo a andare a vedere sono lì sono lì senza senza problemi se non li cancella ma lo ripeto ho fatto gli stamp quindi non ha molto senso che li cancelli le rispondo mi chiamo alessandra non alice lo hai detto tu sia nei video che nei commenti di risposta a chi ti diceva che i capelli rovinati che i parrucchiere ti hanno rovinato i capelli tu non sai che mi hanno combinato le parrucchiere le ho citata a braccio o qualcosa di simile se non ti sta bene che qualcuno ti dica le cose come stanno non fare video su youtube e te lo ribadisco le rispondo ulteriormente che non ho bisogno di visualizzazione altrimenti avrei messo il suo nome sopra il video perché lei di fatto ha più iscritti di me quindi io non volevo fare dissing non volevo fare flame sei tu che te lo sei fatta da sola vabbè ma esattamente se la verità brucia mi dispiace per te mi risponde ma esattamente quale verità è vero l'ho pure raccontato che le parrucchiere in italia non sono in grado di trattare il capello quindi i casi sono due o l'hai detto non l'hai detto perché così ti contraddici in italia non sono in grado di trattare il capello colorato ripeto stai facendo di tutta l'erba un fascio insultando un'intera categoria di parli i parrucchieri non mi sembra corretto visto che i capelli moltissimi perché li sanno trattare benissimo i capelli colorati nulla brucia anzi mi fa pure ridere perché sono sproloqui gratuiti senza informarsi i video li hai fatti tu tu in diretta ti sei fottuta i capelli che cosa devo informarmi se i video sono lì sul tuo canale vabbè comunque diffondi più ignoranza tu così e ai 30 anni più di me prima quindi ai 11 anni insomma se tu mi volevi insultare dicendomi che ho 30 anni più di te non mi ha insultata mi fai solo ridere perché io ho 41 anni tu hai detto più di aveva più di 20 anni quindi al massimo ho 15 anni più di te 14 anni più di te ma io non sto dicendo che io ho ragione perché sono più grande di te sto dicendo perché ora ho ragione perché è evidente che hai capelli completamente bruciati completamente vabbè voglio aggiornarti che i miei capelli ora stanno davvero riprendendosi l'ultimo video risale la settimana scorsa scova di seggine in testa alla grande con l'assunzione delle giuste proteine le proteine per i capelli gli aminoacidi al massimo cioè tu lavori nel settore non sai che le proteine non c'entrano niente con i capelli che non serve assumere integratori alimentari per capelli per curare lunghezze punte perché lunghezze punte sono morte al massimo nutrono la cute quindi gli integratori alimentari quindi lavori nel settore ma di che tu hai voluto dire una cazzata così tanto per secondo te mettermi a tacere non è così sono secchi di base essendo molto spessi quindi siccome i tuoi capelli già di base sono secchi come dici tu li fottiamo allegramente con decolorazioni e vitamina c tanto chi se ne frega allora alice perché tu ti chiami alice io mi chiamo alessandra ti ceterò nel titolo così sarai contenta se avrai voglia di guardare questo video e di rispondermi con un video con un commento fai tu però ti prego ti prego rifletti quando scrivi rifletti non ti fare prendere dalla rabbia dalla perché nella vita nessuno sarà mai in accordo totalmente con te o con quello che fai esistono i pareri contrastanti e i pareri concordanti non possono essere tutti a tuo vantaggio e questo lo imparerai nella vita andando avanti se una persona dà il suo parere oggettivo e obiettivo perché è evidente che tu hai capelli rovinati e non te lo dico solo io perché sotto i tuoi video se tu vai a guardare ci sono 4 mila commenti di gente che ti dice ma perché non ti affidi un parrucchiere ti stai rovinando i capelli ma perché non li curi non eviti di fare decolorazioni vitamina c a me che tutti i fotti capelli non me ne frega nulla però quello che è il motivo per cui ho fatto quel video il primo video è dire alla gente non seguite questi esempi perché a fottervi i capelli non ci state nulla e ho fatto l'esempio di come io mi prendo cura dei miei capelli che sono colorati sono decolorati ora sono elettrizzati perché ho appena fatto lo shampoo ho preso app di come io curo i miei capelli decolorati colorati perché lo scopo del mio canale è dare informazione di supporto per quanto riguarda il bio la cura dei capelli del corpo della quindi quando vedo persone come te che fanno questo genere di video in cui trattano i propri capelli con una leggerezza spaventosa senza dire ragazzi attenzione non seguite il mio esempio perché mi sono rovinate i capelli perché se tu lo avessi detto io non avrei fatto non avrei avuto motivo di fare il video invece tu non hai detto niente tutto questo io nei miei video spiega e dico sempre mi raccomando rivolgetevi al parrucchiere perché io ho fatto così perché i professionisti studiano per lavorare nel campo della parruccheria dell'estetica e quant'altro ora liberissima ripeto di bloccarmi di impedirmi di guardare il tuo canale non me ne può fregare di meno io ho fatto quel video con uno scopo e se tu avessi guardato e ascoltato quello che ho detto in quel video te ne saresti resa conto ma siccome eri talmente infervorata da farmi i papiri senza senso perché ieri tu mi hai fatto dei papiri senza senso perché non hai ascoltato una virgola di quello che io ho detto al contrario di quello che io ho fatto con i tuoi video perché io sono una che ascolta tanto e quando deve fare un video in risposta o quello che è sa quello che dice e come lo dice quindi ti citerò in questo video nel titolo di questo video non per fare visualizzazioni perché ci tieni tanto quindi ti cito non ti avviserò perché sono sicura che guarderai al mille per mille perché io non posso ripeto ogni volta che cito qualcuno andarlo ad avvisare anche perché chi mi se caga quindi quello che ho fatto io non l'ho fatto per le visualizzazioni anche perché tu non mi conosci non sai chi sono non conosci le dinamiche del mio canale io me ne frego delle visualizzazioni come ho sempre detto ripeto se avessi voluto visualizzazione avrei fatto dissing avrei fatto flame ti avrei piazzata piazzata nel titolo ti avrei iscritti avrei mandato il messaggio invece no ho semplicemente preso l'esempio di una tizia x su youtube che fa video di come si rovina i capelli perché questo servono i tuoi video nient'altro per quanto riguarda i colori il mix che fai di colori è stupendo l'ho detto anche nell'altro video ma per il resto ragazza avvisa chi ti segue su youtube la maggior parte ragazzina ci avranno 15 anni 14 anni di non seguire il tuo esempio io spero che questo video sia stato chiaro mi dispiace se ripeto se questo video è saltellante non si capisce però come ho detto più volte come ho detto anche l'altra volta io in questo periodo dormo veramente poco è un mese e più che dormo due tre ore a notte riposo un paio d'ore il pomeriggio quindi sono rallentata faccio tanta fatica a esprimere mi essere chiara perché lo capite bene che la situazione è questa bene allora io odio dissing le polemiche l'ho sempre detto sempre cercato di far di evitare di fare polemiche perché nel mio canale quanti video polemici in sette anni otto anni di canale avete visto pochissimi perché di peta non mi piace però questo questa cosa mi tirata con le pinze di conseguenza ora torno nel mio oblio nel senso torno alla mia tranquillità al momento spero che la situazione migliori e ci vediamo al prossimo video ciao